Un po' di persone, vediamo chi c'è in piedi che è già con il microfono, vai. Sì, la cosa che stupisce, stupefacente, che ci siano qua a spaventare il PD e ricetta civica, che siano zitti e silenti quando abbiamo Monica Maggioni che sta a Copenaghen, al gruppo Bilderberg. Ma questo ne parliamo dopo, ma questo ne parliamo dopo, non bruciare gli argomenti.